Ciao a tutte ragazze, oggi è 28 sabato mattina e ho pensato di girare un video perché ieri mi è arrivato un pacco ed è questo qui, proveniente dal sito internet Carta Zucchero, Bioprofumerie e Fraganze d'Autore allora io questo sito internet l'ho conosciuto tramite delle qui youtubers quali le chicche di chicca, Sonia, Bioflowers o qualcosa del genere in pratica si tratta sempre di uno shop online, di un negozio, di uno store online che vende delle marche un pochettino più particolari rispetto alle classiche che troviamo ad Ecco Verde per intenderci c'è il dottor Aushka, c'è Alchemilla, c'è questa linea Erba Sardinia, Biofficina Toscana comunque ho fatto questo ordine perché mi servivano due prodottini che non riuscivo a trovare da nessuna parte erano ovunque soldato, ovvero parliamo della crema, quella anticellulite dell'Alchemilla 90-60-90 nonché la Neffe Cream allora ho ceduto a queste due tentazioni poiché volevo una crema anticellulite perché si avvicina il periodo dell'estate non soffrendo ne particolarmente però voglio comunque iniziare a dare un trottamento anche a quella parte del corpo ed avevo sentito parlare benissimo di questa crema soprattutto da Cristina, Biobellezza un bacio a tutte le ragazze che sto nominando anche se non credo vedranno mai questo video però insomma mi fa piacere salutarle e poi volevo provare la Neffe Cream poiché non ho sentito parlare talmente bene scusate il telefono e non ho sentito parlare talmente bene o meglio talmente male da alcune e bene da altre che ho detto vabbè proviamola io ho voglia di una cremina leggera la mattina io utilizzo normalmente il Flat Perfection di Neffe Makeup per tutti i giorni per cui proviamola allora mi sono imbattuta in questo sito e ho soffrendo anche di uno sconto che c'era fino al 28 febbraio del 5% nonché il 20% sui prodotti della biofficina toscana per cui ho fatto un piccolo ordine devo dire che è un sito accuratissimo allora spedizione velocissima perché ordine effettuato il 25 pomeriggio ordine giunto a casa mia alle 9-5 quindi non ero ancora in ufficio alle 9-5 del 27 spedizione con GLS quindi straveloce il pacco si presentava vabbè imballato esteriormente ma poi c'era questa scatola con questo fiocco azzurro che conteneva un sacchettino vedete non so se si nota ok un sacchettino dove mi hanno scritto appunto i ringraziamenti contenente dei campioncini è la prima volta che ricevo così tanti campioncini devo dire che i siti che curano di più la clientela da questo punto di vista sono stati finora due cuccioli d'uomo perché Laura è stata splendida e questo qui, questo sito, carta zucchero mi hanno mandato un piccolo campioncino di questa crema mattificante della REN che non ho mai provato un campioncino di gel detergente delicato della biefficina toscana una crema viso elasticizzante biologica di questa marca appunto erba sardinia e poi un balsamo concentrato attivo della biefficina toscana che io adoro e shampoo delicato della biefficina toscana quindi proverò questi campioncini, non vedo l'ora io avevo chiesto campioncini per pelle grassa e mi era stato della dottora Ulusca Ulusca non so come si chiama comunque in pratica mi è stato detto che non c'erano campioncini di quel marchio e mi hanno mandato quindi questo qui per pelle di grassa e mista comunque perdonate, metto il silenzio sul telefono perché altrimenti ci ci disturberanno in continuazione allora, cosa ho acquistato? ho soffrito quindi della promozione del 20% per acquistare questo balsamo volumizzante protettivo della biefficina toscana perché ho provato quello appunto concentrato attivo mi sono trovata benissimo ma questo volumizzante per i miei capelli ricci potrebbe andare ancora meglio vedremo e poi due prodottini che vi ho detto che non riuscivo a trovare da nessuna parte che sono questi qui quindi l'NF Cream nella colorazione 01 e la 90-60-90 dell'Alchemilla allora, questa ancora non l'ho provata devo dire che come ingredienti mi piacciono tantissimo perché non dovrebbe risultare grassa per il mio viso ma devo dire che 20 ml è un tantino troppo poco guardate quanto è il contenito rispetto alla mia mano, il fraconcino vabbè, la proverò e dirò anche la mia ma Alchemilla magari evita lo scatolino di fuori ma all'interno, cioè mette un pochino di prodotti in più e poi c'è questa qui che ho provato ieri sera effettivamente dà comunque quella sensazione di calore per una mezz'oretta ma poi passa e non è una sensazione eccessiva questa ha un prezzo di 22,90 questa ha un prezzo di 13,90 e questa ha un prezzo di 10,50 la cosa bella di questo sito internet che mi è piaciuto tantissimo è che addirittura ti mandano lo scontrino e il bilettino da visita allegato comunque è una cura veramente assurda del cliente vabbè, qui poi mi hanno mandato questi domande plan quindi insomma, io ve lo consiglio tantissimo sono stati davvero garbati, garbati, garbati quindi non è detto che non farò un nuovo ordine da questo sito più là, ovviamente per ora mi fermo approfitto di questo video per dirvi mi ricordatevi, ho fatto un video sulla scorsa settimana forse è quello sugli orecchini on my head comunque, lo smalto che vi ho mostrato in quel video è ancora qui ragazze è passato esattamente una settimana l'ho messo sabato e oggi è sabato dopo una settimana questa è la situazione si è leggermente sbeccato da qua è da qui quindi ragazze c'è uno smalto essence secondo me il top got essence è formidabile vi mando un bacio a tutti e ci vediamo alla prossima ciao